Bentornati, oggi voglio farvi vedere come si impostano i principali formati per la stampa su Photoshop. Nel momento in cui andiamo a lanciare l'applicativo abbiamo la possibilità di creare un nuovo documento. La finestra che si apre immediatamente è questa. Come abbiamo già visto in un video precedente su Illustrator, qui c'è la possibilità di vedere i formati recenti, questo solo nel caso in cui non sia la prima apertura ovviamente. Ci sono dei formati salvati, quindi nel caso ci siamo salvati dei formati che ci interessano, dopodiché abbiamo delle opzioni preimpostate da Adobe, per cui abbiamo delle opzioni fotografiche, abbiamo delle opzioni per la stampa, in cui abbiamo per esempio A4, A6, A5, A3, B5 e tanti altri. Questo in particolare è lo spazio più utile secondo me, perché almeno per me i formati più utilizzati sono l'A4, l'A3 e il B5 e ogni tanto l'A5, quindi questa secondo me è la parte più interessante. Ma abbiamo anche dei formati per le illustrazioni, abbiamo anche una parte web che è molto molto interessante e molto utile perché fornisce subito le risoluzioni di alcuni monitor molto utilizzati, abbiamo una parte mobile dove ci sono i display di molti dispositivi mobile sia Apple sia Android, abbiamo una parte dedicata a film e video dove abbiamo il Full HD, abbiamo l'Ultra HD TV, abbiamo tutta una serie di formati che sono utili quando dobbiamo andare a fare delle anteprime, abbiamo il 4K, abbiamo il 2K, insomma tutta una serie di formati preimpostati che ci permettono di non doverci più ricordare a memoria tutti questi numeri. Tutto questo è molto utile nel momento in cui andiamo a creare un nuovo documento. Voglio farvi vedere un'altra cosa però, che cosa succede nel momento in cui noi abbiamo una foto, un'immagine qualsiasi che io adesso seleziono assolutamente a caso, ok abbiamo qui una foto e vogliamo inserirla all'interno di un documento. Facciamo finta un documento A4. Qui abbiamo la possibilità di selezionare la razio, ovvero il rapporto tra il lato lungo e il lato corto di un'immagine. Abbiamo la possibilità di salvare dei predefiniti, quindi nel caso per esempio noi andassimo a utilizzare il formato A4, quello che bisogna fare è semplicemente andare a verificare le dimensioni del formato A4, in questo caso è 210x297 e gli andiamo a dare ok. In questo caso questa è la razio del formato A4. A questo punto io posso premere il tasto X se voglio invertire i due lati, quindi avere il rapporto tra lato lungo e lato corto invertito. in questo modo ho impostato questa razio sulla mia immagine. Nel momento in cui io premo ok vediamo che l'immagine è stata rifilata ed è a misura di A4. Questo si può fare per tutti i formati che abbiamo appena visto. Una volta fatto io posso andare a salvarmi il nuovo preset, vado a rinominarlo A4 e così ho il mio formato preferito che uso sempre salvato dentro in questa finestra, in questo menu a tendina e posso applicarlo facilmente a tutte le mie immagini e posso sempre andare a modificare l'orientamento premendo il tasto X. Se io l'avessi voluta in verticale il risultato sarebbe stato questo. Posso andare a riposizionarmi e una volta che premo invio questo diventa il mio A4.